Buongiorno a tutti di nome Federica ha tentato il suicidio Siamo qui con una sua compagna di banco Com'era il suo atteggiamento in classe? Sì, Federica era molto chiusa in classe non parlava e molti la escludevano Ha cambiato atteggiamento dopo aver tentato il suicidio? Sì, lei veniva esclusata da molti nostri compagni di classe ad esempio quando dovevamo fare i lavori di gruppo non veniva mai presa in considerazione io invece stavo sempre vicino a lei la aiutava a fare i compiti uscivamo insieme e mi piaceva vederla felice Dopo aver tentato il suicidio Federica subisce ancora atti di bullismo? No, adesso i nostri compagni la trattano benissimo la rendono partecipa ai gruppi e anche alle questioni della classe io sono contenta di questa cosa e non vediamo l'ora che ritorni in classe Bene, ti ringrazio per la tua disponibilità linea allo studio Ciao Federica! Grazie Matteo ora diamo la parola alla dottoressa Chiara Pierpaoli psicologa di Federica che si trova qui in studio con noi e ci spiegherà tutta la trasformazione di Federica da quando era vittima di bullismo fino ad oggi prego dottoressa Innanzitutto buongiorno a tutti quello di Federica non è l'unico caso di adolescenti che tentano il suicidio ma questa è una storia particolare infatti Federica è una ragazza autistica che richiede monta attenzioni in classe Cosa le ha raccontato Federica quando è venuta la prima volta in cura da lei? Quando è venuta da me Federica mi ha raccontato cosa le accadeva a scuola il comportamento dei compagni e come si sentiva dopo questi episodi di cui era vittima Federica adesso è tornata a scuola? Adesso sono sei giorni che Federica non viene più in terapia da me e va tranquillamente a scuola questa è una vera soddisfazione personale e professionale Bene, grazie dottoressa per essere stata qui con noi oggi noi ci fermiamo qui e vi lasciamo alla prossima edizione del TG School del Santa Maria delle Ore 20 Grazie e arrivederci